Figlia cara, amato figlio, amore mio. Teresa. Teresa non c'è mai stata o mai esistente. Hai capito che gli esseri umani vivono di orgoglio e di effimere soddisfazione? Io quando mi guardavo allo specchio vedevo Maurizio intrappolato in un altro corpo. Ma ora che tu sai quello che volevi essere, ti chiedo solo di continuare nella ricerca di te stesso. Come fate a fare l'amore?